Cos'è questa carbonara? I giudici, come ogni gara che si rispetta, stanno valutando i piatti che presentano le squadriglie. Giulia, quali sono i criteri in base ai quali voi fate le vostre valutazioni? Sì, allora, i criteri sono più di uno naturalmente, perché non ci basiamo solamente sul sapore o presentazione, ma curiamo molto anche l'igiene del posto, la divisione degli incarichi nella squadriglia, quindi ad esempio tra fuochisti, cuochi, eccetera. Ovviamente la presentazione ha anche un ruolo importante, come ho già detto, e per finire anche gli igieni, quella è immancabile e super importante anche per la buona riuscita del piatto. Com'è il livello finora? Devo dire, il livello è buono, potrebbe andare molto meglio, però possono fare di più, secondo me. Aspettiamo che un piatto ci stupisca.